Sisma in Emilia, l'impegno della protezione civile e gruppo Lucano nel campo sfollati di Carpi. La misteriosa scomparsa di Rosa Tirotta spunta la visione di una veggente, la donna si sarebbe buttata in mare. Lauria, la proposta di massima del gruppo Lauria Libera Italia dei Valori sulla valorizzazione del centro storico cittadino piace all'aggiunta a miti di eri. Torto rappresentata la prima auto elettrica in circolazione sull'alto tirano Cosentino, piccola e sicura si carica come un telefonino. Buonasera, queste le anticipazioni di Rete3 News di mercoledì 13 giugno. In apertura continuiamo ad occuparci dell'impegno del territorio per i terremotati dell'Emilia Romagna. Oggi abbiamo sentito come se la cavano i volontari della protezione civile e gruppo Lucano nel campo sfollati di Carpi. Il territorio prosegue nel suo impegno a supporto delle popolazioni terremotate dell'Emilia Romagna. Il gruppo Lucano di protezione civile sta fornendo il suo contributo a Carpi in provincia di Modena dove ha allestito e gestisce un campo sfollati per 500 persone. L'impegno dei volontari provenienti dalle sedi del Golfo di Policastro nelle parole del presidente della sezione di Tortore Giuseppe Laino. Il gruppo Lucano è partito già da due settimane, questa è la seconda settimana che stanno gestendo il campo Carpi. La presenza è di circa 500 sfollati, si chiamano sfollati di transito poiché sono delle persone che dovranno essere nel più breve tempo possibile trasferiti in locali come alberghi, hotel eccetera. Attualmente sono partiti due ragazzi da Tortora, uno da Maratea, due da San Giovanni Appiro. Cerchiamo di dare la presenza durante tutte le settimane che ci sarà il campo lì a Carpi. La cosa più difficile in questi momenti e in questi periodi di emergenza è gestire lo stress psicologico degli sfollati. Su questo stanno lavorando i nostri ragazzi, stanno cercando di dare il maggior supporto possibile a queste persone che sono già da circa un mese che stanno subendo continue scosse di terremoto. Disaggi per la popolazione ma anche per gli operatori di protezione civile messi a dura prova quotidianamente dallo stress per le responsabilità di cui si fanno carico. Quando poi gli operatori si trovano di fronte alla gestione di alcune emergenze come queste lo stress è sempre più forte perché le scosse di terremoto stanno continuando, non si stanno fermando e quindi magari durante la notte, durante il sonno, quando magari c'è la possibilità di riposarsi, si svegliano dai sussulti dei terremoti. E ieri anche il capo dipartimento nazionale di protezione civile, Franco Gabrielli, ha visitato il campo delle piscine di a Carpi gestito dai volontari della regione Basilicata. Gabrielli è stato accompagnato nella visita dal coordinatore regionale presente sul posto, Michele Giglio, che ha illustrato al prefetto tutte le attività a supporto della popolazione assicurate dal sistema di volontariato della regione Basilicata. A conclusione della visita, Gabrielli ha espresso soddisfazione per l'organizzazione del sistema di volontariato di protezione civile Lucana. E ritorniamo a parlare della scomparsa di Rosa Tirotta, la donna sparita da Crotone lo scorso 9 aprile. Una veggente dice che la donna si sarebbe gettata in mare. Rosa Tirotta si sarebbe buttata in mare tra la spiaggia di San Lucido e Paola, lungo la costa del basso terreno Cosentino. E' la visione di una veggente del Crotonese che spegne completamente le speranze dei suoi familiari. Nessuna novità purtroppo, le tracce di Rosa si perdono nel nulla. Così una delle sorelle di Rosa, in preda alla disperazione, si è rivolta ad una chiromante. La visionaria ha fornito una descrizione molto dettagliata di quelli che sarebbero stati gli ultimi momenti di vita di Rosa. La donna si sarebbe recata sulla spiaggia, spogliata e gettata in mare, abbandonando a riva lo zainetto che portava con sé al momento della scomparsa. La verità è che di Rosa non si sa più niente dal 9 aprile scorso, quando si è allontanata dalla sua casa natale di Cutro per raggiungere Crotone. Di lì in poi solo tante segnalazioni, senza certezze, senza una pista da poter seguire. Solo una serie di avvistamenti lungo la riviera dei Cedri. Rosa si sarebbe aggirata per giorni tra Praia, San Nicolarcella e Scalea, dove sarebbe stata vista l'ultima volta poco più di due settimane fa. I suoi familiari non hanno mai smesso di cercarla e i carabinieri continuano a svolgere il loro lavoro anche se non ci sono ricerche in corso. Non abbiamo nessun elemento da cui partire, spiega il comandante della stazione di Scalea, Ilario Castrenze. Nessuno l'ha più vista. La visione della veggente lascia il tempo che trova, non si può dare credito ad una visionaria e qualora fosse vero non sapremmo neanche dove cercare. E in questi casi bisogna essere realistici, anche se la disperazione fa fare qualsiasi cosa, come credere che Rosa si sia davvero gettata in mare. Pur di avere notizie, i suoi familiari sono disposti a tutto. Ecco allora un nuovo appello di Anna Tirotta. Aiutateci a cercarla. Non vogliamo credere alla visione, ma la paura di non ritrovarla più ci tormenta. Rosa potrebbe essere ancora viva. E vi ricordiamo dunque i numeri di telefono ai quali poter chiamare per contattare i familiari di Rosa. 338-5453-372 oppure 389-4584-451 o ancora il 349-06-74603. Vi ricordiamo che Rosa Tirotta ha 49 anni, è alta 1,60 m, ha i capelli e gli occhi castani e ha una vistosa cicatrice sul lato destro del volto causato da una scottatura subita da piccola. Al momento della scomparsa indossava un sobravito nero e portava uno zainetto di cuoio marrone. Per le segnalazioni ci si può rivolgere anche alle forze dell'ordine. Le segretorie regionali della Calabria dei sindacati dei trasporti hanno proclamato per lunedì prossimo, 18 giugno, uno sciopero del personale della divisione passeggeri regionale di Trenitalia. Lo hanno reso noto con un comunicato alle ferrovie dello Stato. L'astenzione dal lavoro avrà inizio alle ore 9 e si concluderà alle 17. E ora andiamo in Basilicata. Il rapporto di Banca Italia sul 2011 dipinge un quadro poco roso per la regione. L'unico comparto in crescita è stato il turismo. Martino Ciano. Il turismo salva la Basilicata dallo sfascio totale. Il rapporto annuale di Banca Italia fa a pezzi la Lucania, segno meno per tutti i comparti, tranne che per quello turistico. Più 3,9% di presenze nel 2011 che equivalgono ad 1.900.000 turisti in più, di cui quasi l'8% sono stati stranieri. Tirano le località di mare, Maratea in primis, ma per l'economia lucana le buone notizie finiscono qui. Scende il prodotto interno lordo dello 0,4%, la produzione industriale va sotto del 4,3%, l'export anche cala del 3,1% in controtendenza al dato nazionale. Meno 5,6% per le vendite al dettaglio. Giù anche l'artigianata e l'edilizia, legne immobili, tessile ed abbigliamento hanno fatto registrare rispettivamente meno 6,9% e 5,9%. Effetto domino anche sull'occupazione che, secondo il rapporto di Banca Italia, nel 2011 è sì cresciuta dall'1,3%, ma con qualche particolarità. In Basilicata, infatti, la maggior parte degli occupati ha un contratto part-time, mentre le assunzioni a tempo pieno scendono dallo 0,4%. Inoltre l'utilizzo della cassa integrazione è cresciuta dal 4,5% e sale anche il numero degli inattivi, coloro che sono pronti a lavorare ma non cercano un'occupazione. La lenta risalita della Basilicata, ha commentato il governatore Vito De Filippo, cominciava nel 2013. Anche se la situazione è preoccupante, ancora abbiamo indicatori strutturali più robusti rispetto al resto del mezzogiorno, ha concluso. Perciò possiamo dire di avere un'economia relativamente sana. La speranza potrebbe essere il petrolio, la produzione di gas egregio è cresciuta ed il contributo della Lucania, la produzione nazionale è salito al 71%. Nonostante tutti i dati del primo trimestre del 2012 non sono confortanti, in Basilicata infatti la disoccupazione è aumentata del 3% rispetto allo stesso periodo del 2011. Per la regione Calabria la montagna non esiste e viene dimenticata, lo afferma in una nota il deputato calabrese del PD Franco Laratta. C'è uno splendido mare nel nuovo spot promosso dalla regione per l'estate 2012 e va benissimo, basterebbe solo tenerlo pulito, far funzionare i depuratori, sistemare le coste, creare condizioni favorevoli a chi sceglie la Calabria e le sue spiagge. Ma la Calabria giunge non è solo mare, dal Pollino alla Sila e all'Aspromonte, passando da splendidi parchi naturali, laghi e fiumi, c'è una Calabria verde, bella, incontaminata, che ricorda un po' la Svizzera e a tratti il Canada. Difficile capire, dunque conclude, il perché di questa esclusione. E' una Calabria intanto è sempre più povera, a sostenerlo la Svimez nel suo rapporto 2011, il particolare nel servizio. Povera Calabria, il rapporto Svimez, l'Associazione per lo Sviluppo dell'Industria del Mezzogiorno, riferito al 2011, consegna un quadro non certo esaltante per la nostra regione. Blocco pressoché totale degli investimenti diretti, quelli grazie ai quali, per intenderci, si realizzano infrastrutture pubbliche, ma il dato più allarmante è che la nostra è la regione che dal 1989 al 2011 vanta, si fa per dire il maggior numero di comuni che hanno dichiarato il dissesto finanziario. Ben 127 su 409 per una percentuale del 31,05. Ancora più evidente la gravità del dato se lo si rapporta al numero totale dei comuni che hanno dichiarato la banca rotta. 445 in tutta Italia, 353 al sud, su cui i 127 calabresi rappresentano un'enormità. L'effetto più immediato di questo deficit generalizzato è stato il crollo degli investimenti diretti da parte dei comuni e questo, nonostante al sud, le entrate tributarie siano aumentate in modo vertiginoso negli ultimi 20 anni, addirittura più 151%, il che significa tradotto che al sud si pagano più tasse a fronte di una qualità dei servizi non sempre all'altezza. La cartina al tornasole in piccolo di questo rapporto sono le storie quotidiane dei piccoli comuni. Debiti costantemente in crescita, capriole contabili per pareggiare i bilanci e amministratori sempre più in difficoltà nel gestire le finanze. Non passano giorni che lo spettro del dissesto non venga sbaglierato e schiaffato a caratteri cubitali sulle pagine dei giornali. Altro piccolo esempio, ma che calza a pennello in vista della bella stagione, le difficoltà più o meno palesate da parte di molti amministratori a programmare il classico cartellone di eventi. Il motto per l'estate 2012 sarà Tira la Cinghia e con buona pace del turista che dovrà accontentarsi di quello che il convento riuscirà a passare. Numeri a parte dunque, e anche se il vecchio motivetto del sud motore del rilancio dell'economia nazionale è sempre di moda, è la realtà quotidiana che preoccupa e non poco. Gli assessorati regionali, programmi speciali Unione Europea, politiche euro-mediterranei, internazionalizzazione e agricoltura hanno programmato la partecipazione della regione Calabria alla manifestazione fieristica internazionale Summer Fancy Food Show di Washington che si svolgerà dal 17 al 19 giugno. L'iniziativa si propone di contribuire a rafforzare in maniera durevole la competitività del sistema produttivo regionale promuovendo l'offerta locale d'eccellenza e favorando il rafforzamento, l'inserimento commerciale e il posizionamento delle produzioni regionali nel mercato internazionale, in particolare quello del Nord America. Nello specifico, il progetto promozionale prevede la partecipazione di 14 imprese calabresi operanti nel settore food and beverage con un'ampia rappresentanza delle migliori produzioni enogastronomiche e regionali come l'olio extravergine d'oliva, il vino, i liquori, le conserve sott'olio, i dolci tipici, la pasta a casereccia e le conserve. E domani, giovedì 14 giugno alle 9.30, torna il Brain Network Cosenza Edition 2012. Presso l'hotel Mercure di Rende torna l'appuntamento con stand, presentazioni aziendali, convegni e formazione per favorire l'incontro di neolaureati e laureati dell'Università della Calabria con il mondo del lavoro e le sue opportunità. Presente tra gli altri lo stand del Centro per l'Impiego della provincia di Cosenza. Organizzato appunto dalla provincia con il CPI di Cosenza, il programma prevede seminari di orientamento al lavoro tenuti da professionisti del settore. Alcuni saranno senuti su temi specifici, quali la redazione del proprio curriculum vita, lo sviluppare delle proprie competenze trasversali e l'individuare le strategie migliori per affrontare un colloquio di selezione. L'evento è gratuito, l'accesso è libero e al termine verrà consegnato un attestato di partecipazione a tutti i presenti. Ed ora a Lauria, dopo la presentazione della proposta di massima del gruppo Lauria Libera Italia dei Valori sulla valorizzazione del centro storico, il sindaco Gaetano Mitidieri dice la sua. Un'idea di sviluppo del centro storico che si integra perfettamente con le azioni messe in campo dalla nostra amministrazione. E' il giudizio che il sindaco di Lauria Gaetano Mitidieri dà riguardo alla proposta di massima sullo sviluppo del centro storico cittadino presentato dal gruppo di minoranza Lauria Libera Italia dei Valori in collaborazione con i ragazzi della giovane Lucania lo scorso 11 giugno. La proposta di massima è diventata oggetto di valutazione, continua il primo cittadino. Ho già avuto modo di dire che l'interesse nei confronti di questi giovani è pieno e le loro idee degne di verifica. Il loro intervento mostra una volontà positiva a spronare l'amministrazione comunale e si sposa con la nostra ferma intenzione di realizzare una rivalutazione del centro storico che sia culturale, economica ma anche funzionale. Il borgo cittadino come vetrina di un territorio omogeneo che guardia uno sviluppo globale e soprattutto sostenibile. Tutto questo attraverso una visione di marketing territoriale che punti al rilancio dell'imprenditoria, alla creazione di un marchio che identifichi quest'area e all'aumento delle politiche di incentivazione e di conseguenza dell'insediamento abitativo. Avevamo già sviluppato progetti relativi al miglioramento del nostro centro storico, continua a Mitidieri, tra gli altri il borgo lentiniano dedicato al beato Domenico Lentini che visse a laurea nel XVIII secolo. Quello presentato dalla minoranza è un progetto corposo degno di nota, presentato anche come mozione consigliare. Stiamo lavorando per trovare una linea comune, conclude. Si tratta infatti di un obiettivo su cui tutti noi ci siamo impegnati fin dal momento dell'insediamento di questa giunta e sul quale vogliamo continuare a concentrarci, puntando anche su idee fresche e giovani come quelle che sono state presentate in comune lo scorso 11 giugno. Tutto questo per far crescere la ricettività e la conoscenza di laurea e infine riuscire a creare un turismo dessagionalizzato. Rimaniamo a laurea e parliamo di sanità, sospese temporaneamente le attività di radiologia all'ospedale Beato Domenico Lentini. Il sindaco Gaetano Mitidieri ha spiegato oggi che l'inattività è dovuta a un intervento di manutenzione straordinaria su alcune parti delle due apparecchiature per la radiologia in dotazione al nosocomio. La ditta incaricata alla manutenzione delle apparecchiature ospedaliere si è già attivata per garantire che la sostituzione delle parti usurate avvenga in tempi brevissimi. Si prevede, fanno sapere dall'impresa, di riattivare i servizi di radiologia nel presidio ospedaliero di Lauria al massimo entro 10 giorni. Per far fronte alla temporanea mancanza delle apparecchiature, la continuità dei servizi di radiologia sarà comunque garantita all'utenza dal reparto radiologico del nosocomio di Lago Negro. Ed è stato rinviato il Consiglio Comunale che avrebbe dovuto svolgersi questo pomeriggio a Verbicaro ad impedire lo svolgimento della civica assise, un contrattempo per il segretario comunale rimasto vittima di un lieve scontro d'auto. Il Consiglio Comunale, riunito in sessione straordinaria e urgente, avrebbe dovuto trattare la nomina della Commissione Terremoto e la cessione di un terreno in località San Francesco per la ricostruzione di uno dei fabbricati demoliti negli ultimi mesi a causa del dissesto idrogeologico. A Scalea adesso, dove ieri pomeriggio è stata inaugurata la prima mensa solidale dell'Alta Tireno Cosentino. Per noi c'era Martino Ciano. La solidarietà si ferma a Scalea, è nata la prima mensa solidale dell'Alto Tireno Cosentino. La sede è stata inaugurata ieri pomeriggio alla presenza del vescovo della diocesi di Scalea, San Marco Argentano, Leonardo Bonanno, del presidente della provincia di Cosenza, Mario Gerardo Oliverio e dell'amministrazione comunale. La mensa è stata allestita nel centro anziani del Comune Alto Tireni ed è frutto di un protocollo d'intesa tra amministrazione comunale Caritas Parrocchiali e l'associazione Contatti di Don Giacomo Benvenuto. Un'iniziativa insomma che ha unito chiesa ed istituzioni. C'è il Comune insieme con le parrocchie, le Caritas Parrocchiali ed è bella anche questa sinergia. Tutti avvertiamo questa necessità di essere vicini, solidari ai fratelli che vivono in particolare disagio, le persone più bisognose evidentemente, gli ultimi, la società. Poi la povertà certamente è una realtà drammatica in Calabria per tanti aspetti storici che riconosciamo, ma oggi è in attualità per la crisi economica che stiamo vivendo. Un servizio di assistenza per i meno fortunati che verrà potenziato nel tempo. Tutti i giorni e dalle 12 meno un quarto fino all'una verrà erogato un pasto. Quello che verrà garantito è soprattutto il primo piatto. Poi di volta in volta, avvalendoci ovviamente anche dell'aiuto di ristoratori, commercianti, tutte quelle persone di buona volontà che vorranno collaborare con noi, se sarà possibile potremo regare anche un secondo. Da lunedì al sabato per adesso. Se riusciremo, cercheremo di garantire anche la domenica. Con l'inaugurazione di ieri pomeriggio si chiude un iter progettuale cominciato due anni fa e portata avanti con Caparvietà, una risorsa importante per il comprensorio che ha ricevuto il plauso della provincia di Cosenza. L'iniziativa della mensa solidale qui a Scalea è una iniziativa importante sull'alto terreno cosentino, per l'intera costa, perché appunto è un punto di solidarietà, di servizio sociale a fasce che ne hanno bisogno e credo va a merito dell'amministrazione comunale che l'ha promossa questa iniziativa. Si comincia quindi con una nuova iniziativa che avvicchisce Scalea, dove la solidarietà è di casa. Già da tempo ci sono alcune iniziative, tipo un centro di ascolto, tipo un centro di distribuzione di vestiti, c'è una casa di accoglienza per persone che vogliono dormire per qualche notte, quindi adesso c'è in modo stabile anche un luogo dove possono trovare da mangiare, in effetti consumare un branzo le persone che hanno bisogno. A spasso con Pisacane, la Proloco di Sapri ha organizzato un percorso culturale per la formazione di due orientatori turistici. Si tratta di incontri di conoscenza sulla storia di Carlo Pisacane, tenuti dal professore Corrado Limongi, che prenderanno il via il prossimo 13 giugno alle 16.30 per la durata di 6 ore. Obiettivo formare due giovani per realizzare la proposta estiva di percorsi culturali legati alla storia del rivoluzionario napoletano. Gli interessati potranno presentarsi al centro studi Santa Croce di Sapri. Requisiti necessari alla partecipazione sono il conseguimento del diploma di maturità, un'ottima conoscenza della storia, una buona dialettica e buone capacità comunicative. Per ulteriori informazioni potete chiamare il numero 0973 605546. Andiamo a Tortora, questo pomeriggio è stata presentata la prima auto elettrica dell'Auto Tirreno Cosentino. Vediamo il servizio. NWG Zero Electric è la prima auto elettrica in circolazione sull'Alto Tirreno Cosentino, lanciata lo scorso novembre sul mercato a Roma e è stata presentata questo pomeriggio a Tortora. Un'auto pratica silenziosa che si carica come un telefonino. Allora, l'auto si accende normalmente come un'auto normale, in questo momento l'auto è già in moto, ci sono due tasti, marcia avanti e marcia indietro. Non c'è cambio manuale, ci sono quattro stili di guida, tasto race porta una velocità di 110 km orari, standard 85 km orari, economy 65 km orari, rain guida su pioggia e su neve. Questa è l'autonomia della batteria che in modalità economy e standard ha una durata di 140 km. Quanto è sicura questa macchina? È sicura, è omologata, addirittura riesce a fare anche curve a 110 km orari. E questa versione, per la sua sicurezza, è un quadriciclo che si può guidare anche dall'età di 16 anni. Una macchina che offre molti vantaggi. Comprare un'auto elettrica innanzitutto ci comporta di non inquinare, che è la cosa più importante. Con 2 euro si fa 140 km, l'assicurazione costa il 50%, il bollo non si paga per i primi 5 anni, lo stesso vale per il taglianto, perché essendo un'auto elettrica non ha bisogno di fare taglianto. Parcheggi blu gratis e ZTL si può cedere gratuitamente. Questi sono i punti fondamentali per chi comprerà poi in seguito, da oggi in poi, l'auto elettrica. E i costi non sono esagerati. Il prezzo di un'auto elettrica corrisponde più o meno a 30.000 euro. Per molti una cifra proibitiva, ma la prospettiva è a ribasso. Era questa l'ultima notizia del telegiornale di questa sera, adesso uno sguardo al meteo e gli appuntamenti per domani. Graduale aumento della nuvolosità in prevalenza alta e stretiforme, ma con serata e notte all'insegna del cielo limpido su tutto il meridione. Le temperature sono in aumento, i venti deboli e i mari mosso il tirreno, poco mossi i restanti mari. E gli appuntamenti per domani a Sapri, giornata mondiale della donazione del sangue. L'associazione Donatori Volontari di Sangue del Cilento sarà presente nelle strutture ospedalieri di Sapri e Vallo della Lucania, dalle 8 alle 13 all'unità di raccolta dell'ospedale Immacolata di Sapri. E a Scalea la conferenza stampa di presentazione della seconda edizione del Master VIP Tennis, evento sportivo che riunisce personaggi del mondo dello spettacolo per raccogliere fondi da devolvere quest'anno alla parrocchia Sacro Cuore di Marcellina, alle ore 15 presso il Luxury Resort Borgo dei Piani della Bruca di Scalea. Con questo era davvero tutto, grazie per essere stati con noi. Vi ricordo l'appuntamento con la Rassegna Sampa di Rete3 domani mattina alle 9. Buon proseguimento di serata.